Ciao a tutti ragazzi, sono Megadestini2002 ed oggi ritorniamo su Star Wars Jedi Academy. Siamo alla prima missione dopo l'addestramento e siamo a Tatooine. Sì. 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 Yeah, Chuwi! Anybody here? Well, I guess they're out. May hidrassata? Not Literally們? Yes. Luke's info is good. This are definitely freelance cargo ships. I've got a bad feeling about this. Listen. Stay here and guard the entrance to the docking bay. se qualcuno cerca di andare o di lasciarli detaino io andrò alla cantena di Crate e chiederei e conosco alcune persone un Jedi? io? no, non ancora sono uno dei studenti di Kyle Katarn si parla con alcuni locali stiamo investigando un culto che si tratta di tutto tu devi essere Chewbacca dove sei qui? non abbiamo niente, no? Lea Organa? deve essere un'importante dove andiamo? si dove ande Chewbacca e ci fanno fare un'emozione non sapevo che Jeff poteva fare un'emozione super andiamo? oh, ma mamma come giuolo? dai che sei? come c'è paura? come c'è paura? come c'è paura? è un guerrillero tutti questi passati li chiameremo guerrillero come fa l'altro? ah no, tu hai neanche Chewbacca 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 super l'ho uccidito? ma pure l'ho uccidito come una testa cosa mi ha lanciato? delle bombe? delle bombe, Chewbbe! ma no, non si vedi qui Chewbbe, ma tu delle bombe non li fai niente? se non vuoi farli sfatare la sercasina ma si chiama l'allegliato in due Chewbbe ma che sei tu? assaggammi sicca si è fatto scogliere dicendo le parole fatali per la sua vita assaggammi ma che non avevo dietro? la testa ciò che sei qui? andiamo ahhh ahhh chi sei tu? non ho trovato la me? non ti prego ma che? ci sono le guerriglie di abbassati? bravo Chewbbe andiamo così ce la farai cosa vuoi fare? sono le guerriglie di abbassati che mi possono battere mi sto portando adesso questo coso non credo, non vuoi le guerriglie? non credo, non vuoi le guerriglie? no? non è un bel essere di Chewbbe questo chi te l'ha detto di usare la Chewbbe? no balestra gli Cewbri ma di Chewbbe mi hai colpito? I Chewbbe non stava tanto le sono andato Oh no, l'ho togliata a me da ragazzo! Ma che cos'è strommata la vita? Che cos'ha? Oh, l'ho ancora d'ora, che è finita l'ora! Che è finita l'ora! Non aveva scappato? Ma non aveva scappato nemmeno di Jedi Escape! Superf***o, non realizzano questo! Ma se c'è lui, andrò guardandolo io! Vamociupè! Parli fuori, parli fuori! Vabbè non sono andato lì qua giusto! Ho, 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 ho! C'è uno sempre dai qua! Oh no! nooo CHUVE deve tenerli alla larga CHUVE NO! CHUVE! nooo ma non c'era CHUVE ah si? devo fare adesso, non è che CHUVE è buona cioè vuoi non morire a resistire nooo nooo non ho mai controllo no si si nooo nooo ma non morire ma non tu fermo con le granate eh ragazzi prendiamo delle granate non morire anche dopo il tuo non è morto non è morto non ti scappi non te la dora cosa è quello? il guerriglio è attassato è morto d'allia no ti frago fermo ti frago no tu chi sei? vieni qua di vieni qua non ci sei? ma non è solare non si ma non ci sei? ma non ci sei? che se AIA! Questo mi sembra... Ma come mi muovi con un corpo come quello? Non è quello che c'era lì allo disfondo? Niente! Nooo! Ah! Wow! La vigna! Adesso adesso è stata... ...tagliata. Se no, non puoi darle. Chewbacca! Non c'è una... Chewbacca! 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 Non c'è una scena di pistola per camminare. Se una botte si apriva prima... Chewbacca! 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 Uh! Uh! Agilità! Velocità! I cessi! Tutti non argenti! Via via! E tu che sei un guerrigliano senza potere, senza niente! Uh! Uh! Un guerrigliano senza potere! Un guerrigliano è venuto fuori quello senza potere! Non c'è quanto la sento, non ascolto un guerrigliano! Quelli hanno diventato un piccolo guerriglia! Oh no! Ciubbè, nessuno può prendere! Mi hai aiutato! Ciubbè! Questa squadra! Ciubbè! C'è qui! Ciubbè! Ma dov'è che mi sono andata con l'indicato di fuoco? Voglio dire che c'è qualcosa da guerriglia! Ma io non ce la faccio con le guerriglie! Semmai io poteva l'indicato! Che è successo? Ma vuole il mio amico torna! Forti morti! Ciubbè! No, 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 no. If he hadn't shown up when he did, I'd have been in a whole lot of trouble. Yeah, well, the way Chewie tells it, you held your own. Nice work. That's... Oh, no. Come on, let me know what's going on. It's a good thing Chewie was there, but you did well regardless. It looks like this cult and the Imperials may be working together more closely than we thought. We've been looking into the shuttle crash, and it doesn't look like laser damage or a mechanic. bene ragazzi la missione è finita direi di concludere anche il video e al prossimo video faremo un'altra missione ci vediamo al prossimo ciao a tutti